Ciao cari sono Matrix, signori bentornati cari nel canale, torniamo con il colonnello su The Marvel Snap, troppo Zano non c'è, oh saluta, saluta, no non sono contento stamattina voglio salutare perché non c'è Zano, allora è uscito finalmente il nuovo Season Pass, quello di Halloween, ho tematizzato tutto creepy con la carta Elsa Blodson, l'una calante nel pozzo discendente nel pozzo discendente, adesso non mi ricordavo bene il nome in italiano, tra altre cose oggi vi aspetto ragazzi di mainstream alle 15, faremo una lunga stream in cui celebreremo per l'appunto questa nuova Season e aspetteremo insieme la grande patch, insomma la patch che oggi è in uscita non sappiamo a che ora e in cui, vabbè non lo spoileriamo, noi la sappiamo, preparatevi insomma al peggio, vabbè al peggio ovviamente, Lobolo, 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 ragazzi lasciate, non sono tanto felice, non ce ne so, comunque lasciate un like al video seguite il canale Atrix, non so per quale motivo sei molto giù di morale questa cosa mi dispiace caro vabbè sti cazzi, abbiamo detto, sti cazzi, me l'aveva promesso, no perché lui già... è l'ha promesso bro, quanto può valere la promessa di uno di Roma? quanto può valere bro? un bulletto di bottiglia e invece io, eccomi qua presente bro, come l'ha promesso, il marchigiano, la persona vera, la persona onesta e infatti sono qui con te, pronta a registrare ti torna? ti torna una tua promessa in vita tua signori miei, nella attesa poi di tutte le carte che usciranno nel proseguo di questo mese oggi per l'appunto andiamo a testare Elsa, lo faremo con un mazzo che mi baserà il colonnello? ovviamente no, sì, perfetto, quindi caro lo aspetto su Discord andiamo finalmente a provare la carta nuova nella speranza che sia protagonista di archetipi diversi ed eccola qua, signori miei, Elsa Blodson, direttamente dal film no, dalla serie tv We're World for Five Nights da serie We're World for Five Nights più tre forze a tutte le altre carte che quando giocate riempiono un campo, no? quindi fondamentalmente per tutti quei pochi che ancora non l'avessero mai vista nel momento in cui giocate una carta come ultima carta che va a cloggare il campo di Elsa quella carta pende più tre forze quindi ovviamente le sinergie con Kitty Pryde con carte che si spostano Nightcrawler, Spiderman, Vision sono sicuramente sinergie molto forti perché comunque rega alla carta costa anche solo due mana e ha un potenziale di veramente tanti punti ma mi hanno scammato ho preso il passo quello che ho sbagliato a prendere vabbè, poi dopo caro che ti frega, bro che ti frega, che ti frega affogate nella tua tristezza e passami un mazzo allora cari, eccolo qua il mazzo che non vedete però colonnello, disamina vabbè ragazzi, è un Sailrite Monkey senza sera ok, perfetto eeeh, bene una bella disamina è stata c'è da dire, è una cosa importante da ricordarsi ma intanto è una cosa semplice perché se giocate ve la scorgete non ti incricca se fate l'accesso a Snap da oggi, dal 3 appunto fino al 6 novembre cioè vedete la variant tutta rocca di ehm dottor strange in regalo ma com'è la variante di dottor strange? si si tutta rocca però è già uscita eh siccome è quella, si però mi sa che io non ho ancora roccato con l'account da cellulare mi sa ah, ah da cellulare non abbiamo Elsa questa prima partita colonnello ah e in più un'altra cosa che hanno fatto hanno messo no no e che sto a vedere no bro bishop e angel tutte e due su acceleration non è un po' non troppo eeeh ma un'altra una diciamo bishop una con it ma anche non me la gioco bishop no vabbè vabbè non scende non scende e comunque praticamente hanno messo sul sito ufficiale di marvel snap perché se tu fai gli acquisti vabbè che geniale scusami se fai gli acquisti ti danno dei punti e con quei punti ti il regalo delle 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 ricompense delle ricompense non è contento lui che ci sarebbe no bro non è contento lui qua si ha veduto che ha fatto zero psylock per farci poi patrio c'è sto tipo in genio capito in compreso ma è comunque un genio io giocherei mi raggi in mezzo vai ma comunque quattro punti fa anche se stanno tifo e de mary in mezzo vabbè bro c'ha matematicamente lukage quindi questo la carta più bassa che c'è in mano è taskmaster però magari trova lukage nel mazzo capito oh bro non ci abbiamo Elsa mi spiace molto questa cosa sarebbe stata simpatica io giocherei patriot kitty pride vai non mi stai facendo un favore ultimo turno misterio hitmonkey kitty pride cioè ti rendi conto bro che oggi come oggi il 2023 non c'è bisogno di quella troia di merda di sera ma vabbè ma sera ti ha sentito ti offesa ok allora dobbiamo fare i tuoi conti caro in funzione del luk ma mo con lukage questo vince allora se se gioco ultron lukage potrebbe vincere sì ma come fa giocare a ultron se ultron lukage potrebbe vincere sì in mezzo no però in mezzo non vince mai no ma come vince bro tt foid meri diventa 10 10 ha capito 10-14 ne facciamo comunque adesso e poi magari 10-14 e magari gioca ultron in mezzo 22 22 sono tanti però però non possiamo giocare intorno non possiamo giocare intorno a ultron a ultron farei misterio a destra no a destra perché se no ti diventa un 2 è inutile facciamo misterio a destra facciamo kitty così vabbè non è che se può fare tanta roba in più insomma abbi pazienza allora abbiamo detto perdiamo da quella cosa sì 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 no ma intanto l'ukage lo gioca sicuramente ma vede se c'è anche ultra attenzione ok red school aspetta però fa l'ukage ok vabbè anche avesse fatto l'ukage gli avremmo comunque messo in culo perché guarda quanto belli quei 20 punti in mezzo insomma Angela da 10 purtroppo ragazzi miei abbiamo condiviso il primo game senza che trovo Elsa lo troveremo sicuramente nel prossimo game c'hai capito è ovvio è chiaro è la carta nuova insomma il gioco sicuramente me la farà vedere per poterla farmi giocare per poterla subito criticare e additare ma insomma sta carta è forte oggi c'ho capito che tant'Elsa non la troviamo è esattamente quel video lì esattamente quella cosa lì Elsa non la troviamo ma nel track c'è già mi sono preparato al peggio niente basta pensate a contai gaming non la trovo perché tanto questo è cioè la vedrete forse una volta una volta forse ma forse l'ha disfuggita all'improvviso forse è trovata l'ultimo turno è mai giocabile è mai giocata giochiamo anche noi Mobius giochiamo e facciamo che ti vorrai dici basta qua me gluga basta però ci sta tanto non soffriamo wave perché abbiamo giocato Mobius quindi molto buona in realtà molto bene che me l'ha distrutta ok vabbè ci sta quindi possiamo fondamenti micchia avevo levato forge e kitty noi abbiamo fatto basta e abbiamo pareggiato la sua kitty e adesso niente continuiamo a rimbalzarci la carta ultimo turno suormiamo grazie Elsa di esistere come nuova carta il season pass però speriamo di trovarla tipo boh all'ultima partita perlomeno possiamo cioè perlomeno possiamo scriverla nel titolo capito abbiamo provato Elsa Blastorm l'abbiamo fatta vedere però l'abbiamo fatta vedere nella preview hai ragione hai ragione è ragione vera buono meno male sarebbe stato un disastro avesse preso kitty pride invece no che cazzo non sciuri questo qua probabilmente non sciuri potrebbe essere una sciuri niente jeff e io devo letteralmente continuare io posso giovarla qua no per non rischiare stanza ci sta poi vi sposi tutte e due e ci giochiamo hit monkey vabbè intanto non ho rischiato la stanza del pericolo poi vediamo cioè il problema è che è un po' una merda capito tra uno spaziale per noi non è fortissima invece mettiamo hit monkey probabilmente invece mettere hit monkey la domanda è quanti punti fight monkey allora 1 2 1 2 no aspetta aspetta ho sbagliato mannaggia bro ogni volta sta roba è fatta di male di un male su sto gioco allora sicuramente queste risposte stiamo a destra no si guarda 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 che schifo facciamo 1 2 misterio dove uguale è buono non ce la faccio dovresti giocare una sola kitty faremo così faremo una sola kitty e quelli hit monkey è un 2 4 6 è un 8 pareggia con vision lo sai però lui vision lo sposterà sicuramente però è l'unico modo che c'ho per almeno per pareggiare visione capito può fare così per forza perché se non sposta visione non lo so è tutto bagato è tutto bagato vedi che non ha spostato visione infatti no dovrebbe perlomeno lui sapere cosa cazzo è la priorità in teoria no però non mi sembra che sia una persona che sa effettivamente che la ma ma no capito però però se mi fai scienzi sei un figlio di puttana capito non vale la pena di vivere caro giocare scienzi senza prio allora seconda partita tiriamo un attivito le somme e scrivetelo nei commenti non è male Elsa no non è affatto male Elsa vedi ha fatto comunque il suo spot basta basta grazie mille per la disamina facciamo così bene ogni volta che non la trova inizia a prendere a cazzotti la scrivania snap e concedo la partita così ti faccio perdere anche dei cubi visto che l'account ero tuo no anzi ogni volta che non trovi Elsa riversi come un coltello successe è incredibile hai capito è assolutamente pazzesco eppure anche il tuo account che sappiamo essere comunque un account niente oggi ve l'ho detto regà oggi cioè ci vediamo in stream alle 15 perché ormai guarda a sto punto sai che te dico bro non me la dai Elsa la giocamo in live per la prima volta in assoluto oh comunque qua lupiagna in mezza vittoria ma quanto è forte bass questo mazzo è veramente voluto bro cioè ma fatevi un conto regà dei punti che sta facendo bass 10x Elsa 10x Elsa lo sai la carta nuova sarebbe stata comunque interessante giocarla biscio bello ma è schiappa capo vuol dire che noi dobbiamo fare hit monkey mi stira turn perfetto ci facciamo i cazzi nostri colonna Angela kitty ah misterio ok allora sì perché è l'unico modo che ho per poterlo giocare sì sì tanto poi ci facciamo anche Jeff capito adesso mettiamo un po' dei punti su Angela e sì non mi sembra male bro ok se non succede qualcosa di incredibile l'ha trovato è al devoluzionario però top ok ma c'è la possibilità ancora di perdere colpa di coso eh dei misty knight no 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 dottor doom ma dottor doom vinciamo vinciamo guarda che sta roba di Angela misterio è stata smart lo puoi di pure in partenopeo cioè nel senso che sarà la giocata di Angela misterio c'è fatto vincere la partita quindi dovessi di eh però Angela basta senza basta no 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 sicuramente bro Elsa blood storm ok vediamo per quanto tempo ancora il gioco può prendermi per il cu fortissimo eh il gioco può giocare già basta magari il tuo dopo giochiamo a Mobius se non Angela capito così il buff a me insomma do di una cosa scontata puoi dirmelo Elsa blood storm e diventerà sempre più ridicolo cioè turno dopo turno partita dopo partita è sempre più ridicolo eppure ragazzi vi invito a notarle scorgerla nel tracker la quinta carta o la seconda carta della porco posso dire il mio eroe è giocare Craven in Human Touch in a stessa location effettivamente non è intelligentissima ma è giocata questa a me non mi piace la stanza del pericolo però colonne facciamo così e baffiamo sempre Angela con Kitty Pride e se facciamo Kitty a sinistra e Angela a destra e poi ogni volta bam bam facciamo eh sì non so ti piace? sì è uguale ci sta è uguale tanto no sì tanto comunque a sinistra avremmo sempre solo giocato una carta no? in realtà non c'è che bella sta variante di Ugovia ma te ce l'hai questa qua? sì ah perfetto ha snappato? ok mi permetto di contro snappare anche effetto vale vale grazie colonnello grazie mille siamo fortissimi siamo fullbuster fullbuster la seconda cube è incredibile sì e poi tra le altre cose insomma potrà giocarlo anche su Morag ah no sono un coglione sono un coglione davvero non occorre che me lo fai capire così eh Elsa Bloodstorm allora Kitty Bride direi Mirage Nightcrawler no? o ci vogliamo conservare Nightcrawler o ci vogliamo bravissimo mi piace 3 4 5 però eh attenzione e magari ci dà un drop eh ho capito ma che ne sai che drop te no? ok allora vai perché questi sono già 4 mana capito? quindi se è 2 mana lo possiamo giocare ma se è 2 mana poi io per non rischiare giocare così tanto da dirlo ma come cazzo perdo cioè ti rendi conto di che mano ci abbiamo dai eh grazie ah questo è forte questo spiega un po' tutto il suo plan eh vedi abbiamo 7 e ok dobbiamo capire come gioca però eh kitty dagger kitty dagger in mezzo eeeh vuoi fare kitty dagger in mezzo eeeh no non mi piace se è la verità quale io giocherai solamente nel crawler in mezzo ok e poi fai poi carichiamo così e poi carichiamo così carichiamo bro vai carichiamo un botto a destra a me piace cioè alla fine tanto bro cioè nel senso inutile carica troppo sostanza del pericolo anche perché se ci gioca eh no no ma se gioca indal è inutile carica al centro no? cioè torna te oddio non è in due carte bugger ok non è himdal sì ma così non vince mai bro no non vince mai non vince mai forse le differenze riedi no aspetta no 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 non vince ma infatti questo è che c'era tendenzialmente secondo me contro move e dobbiamo puntare due location no? anche perché himdal solitamente ce lo possono avere quindi sai cioè perché andrò a contestare la sostanza del pericolo se poi mi fa himdal e mi spacca il culo e mezzo contestiamo su due location e qui 15 punti erano tanti ma no ho fatto l'ottostringio colonne e eh eh voglio provare a farne fare l'ultima giusto diciamo che me ne farei un'altra me ne farei un'altra sarebbe veramente ridicolo man su 4-5 game sì 5 partite mi pare non mi ricordo veramente ridicolo non l'avella nemmeno vista in mano bro nemmeno t'ho beccata Elsa Blossom Elsa Blossom eh beh ho capito insomma dopo 31 minuti di video eh eccola qua guarda che bella che è mirror match potrebbe essere mirror match immagini se l'abbia di dare un'altra Elsa cioè sarebbe avrebbe fatto tanto rite avrebbe fatto un sacco rite sì effettivamente ok Elsa Blossom e into bishop into lizard jeff sì ok poi gli servirebbe gitty ride insomma vediamo bella Angela forte basta Angela molto molto forte ce l'abbiamo anche noi Angela però devo fare bishop assolutamente immagini perdere i mirror match una volta troppo una volta trovata Elsa il migliore secondo me bro è il misterio eh o più Falcon Kid mezzo noi diciamo è difficile non testare l'ammezzo eh quell'angelo è un 11 eh lo so ci lavoreremo penso un po' che sfia quando è wood non è andata ma senso fa wood in mezzo in mezzo se almeno non la recuperiamo mai eeeh quel cazzo faccio e allora scusami se in mezzo non la recuperiamo mai tanto vale giocacci delle carte 3 4 5 giochiamoci solamente the wood ultimo turno facciamo 3 4 5 con the wood eeeh speriamo di provare a mistire in realtà non è la carta più forte che possiamo trovare eh no è American Chavez ah no hai ragione abbiamo American Chavez si eeeh si lui ovviamente è Elsa non fa paura Elsa bro noi abbiamo noi l'Elsa adesso questi ho messi bene colonna eh il problema c'è anche se suorma sul zona negativa ma come vince allora scusami però il demone a sinistra comunque noi spostiamo Jeff qua no si il demone a sinistra fai i buchi in petto è 9-12 si eeeh infatti farei demone e basta hit monkey vai bro guarda che siamo forti 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 secondo me facciamo un sacco di punti facciamo ma scusami una cosa se tu fai bust hit monkey basta hit monkey a destra e per prendi un meno 2 prendi un più 1 no perché quando fuori la location prende più 3 hit monkey no però che siete esprimiti in italiano perché non ho capito per Elsa eeeh se tu fuori la location cioè quella bust in mezzo non è una 1-4 adesso e ma devo giocare sotto mira sotto Elsa oh è vero oh si si no lascia sta scusa ok andiamo cosa ha snappato bro è gigante sta roba c'è tu ti rendi conto di gente come cazzo passo ah forse ne fa cosa mi fa scienzi però vabbè se c'è scienzi or Cristo di Dio era meglio scienzi mozzi no vabbè no vabbè eh vabbè c'è sta ci sono rimasto malissimo ci sono rimasto male pure io e devo andare così bro una partita in cui prendiamo Elsa è una partita persa amori miei oggi ovviamente questo utilizzatelo come piccolo antipastino avrei voluto farvi vedere più Elsa ma purtroppo non c'ho più tempo oggi inizio stima alle 15 ringrazio il colonnello per questo video ringrazio voi per il vostro like che sono convinto sia arrivato un porto ci vediamo tra poco grazie mille un grosso abbraccio e bella fate un buon proseguo di giornata non vi scordate di passare stream oggi è importantissimo buon pranzo buon pranzo buon pranzo